bello a tutti ragazzi, bello a tutti ragazzi, a nostro nuovissimo video sono il vostro con Alex e bentornati in questo nuovo gameplay su Dragon Ball Z Dokkan Battle ragazzi pochi minuti fa ho portato a Ghostbusters 4 Ultra UR come vedete non ci vuole niente a portare ultra bassa che avete, vabbè mo a me mi chiede 77 Ultimate Fusion, Fusion per 77 per diventarlo LR penso, prima ti davano tutti questi qua, questo, 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 tipo Recaio del Nord, l'insetto piccolino e portato a Ultra mo dove ho portato a Ultra, Vegeta, rimangono questi qua, chiedevano ora ci andremo a fare degli eventi, arriviamo a 5, Dragon's Doom, aspettate questo qua la tolgo perché non si vede nemmeno potere, allora questa qua allora come giocatore ci scegliamo, allora io voglio Hit oppure Coco 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 Super STR, Super STR ah raga, penso che farò molto di danno perché ho visto molti Gogeta SM4 Ultra Super Tech eeeh UR Super Tech sono molto potenti, cioè facevano molto di danno molto rispetto al normale ah raga, quando arriviamo a 5 facciamo penso quello la dove ci esce Goku Super SN4 spero che mi esce proprio lui spero ma non penso perché sto provando da ieri ma mome che ieri sera mi è uscito Mr.Satan poi mi è uscito Napa poi mi è uscito gli altri personaggi che fanno a cagare al cesso fatta la Zamoso che con il corpo saluto di spi fatto la palla mmm che ci vuole, ma che ci vuole raga, chissà, Gogeta già Zamoso ha avuto il culo perché non mi è uscito Gogeta se no Ramo fosse poi abbiamo questo Vegeta boffate poi abbiamo Vegeta Super SN2 e poi abbiamo infine Goku che fa schifo questa forma è qua ovviamente oh mio dio boff boff Goku non male uccide già Zamasu ecco qua eccolo qui ragazzi la leggenda è marra vediamo un poco eh l'amatosca eh 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 devastare ah regà 56.000 porco dura vabbè regà è morto oh mio dio 84.000 questa spacca proprio i culi ah ma quindi ultra può salire ah è vero io me l'avevo dimenticato raga quando un personaggio va a ultra può arrivare a livello 120 mi pare a ultra invece l'R può arrivare a 150 mi pare oi capito mamma mamma scendiamo a prendere la trasformazione questa qua ok undi vegeta poi andiamo sul 5 perché il punto non ci dà mai buono poi andiamo oh mio dio ci fa paura quel black goku vero ma secondo me a goji ci fa un baffo ah black goku supe serosie agl e zamasu str str allora già potete che allora black goku è stato sterminato no aspetta aspetta ho un piano ho un piano ecco qua quando fai di danno eh addio addio si 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 addio black boffa 74 mila va a farti fottere è rimasta in vita zamasu ma zamasu fa una brutta fine allora facciamo con vegeta così e con goku super sian 4 livello ma amata e con trunks super sian facciamo così è morto sia vegeta che è è morto sia zamasu mamma 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 mia regà è proprio allora regà andiamo con gocita andiamo raga abbiamo vinto questo qua penso che dopo ci sarà la finale la fusione tra zamos una missione completata un drogosturno allora ora penso che possiamo farlo spacchettamento penso spero ma va a farti fruttare tu e patate accetti accettati meglio così almeno così ci andiamo a fare l'ultima facciamo questo qua del gogo anzi no anzi si facciamo questo e poi andiamo a fare la più difficile quella di frise sentite non posso stare perché non partire what the fuck che ci vuole una zona scema andiamo di qua supertech ur e poi penso che che l'anggo puppet sa che 100% vabbiamo 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 Sì non c'è manco si schia io tengo una sola mongoloide 100% ecco qua ragazzi noi ci andiamo a fare lo spacchettamento ci hanno leganato aspetta un attimo ci andremo a vendere qualche cosa tipo lui 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 e basta video qui li mua youtube da mannì sa oto non ti preoccupa come fischi buon che venga a fare youtube ora c'è anche una spacchetta di questo pacchettino ma sono fuori di un bambino sono fuori di un bambino 4 4 5 zitto no perchè si trasforma la porco 2 il mio a rega no no porco di incivano allora rega andiamo a fare degli eventi non si è andata a sfumare lo figlitto questo qua rega ci andiamo a fare se ci sta ancora eccolo qua doc ultimate speed con il nostro gogetto a super semquanto supremo guarda è grande perché la percomare il mio siamo andata non è come battaglie non è vero che la percomandata da il mio e questo è andato ma sono andata ma ho raggiunto all'az no cosa ti hai non mi metà direi non è vero che non mi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.